Il Movimento 5 Stelle Milano anche questa domenica tornerà in Val di Susa. Saremo lì per dare una mano a tutti i cittadini della Valle che da anni combattono contro questa opera ormai senza senso nel 2011. Questa domenica ci troveremo già in mattinata a Chiomonte, presso la stazione, da dove partirà una manifestazione e un corteo pacifico per riprendersi la Valle. Quindi ci vediamo questa domenica. Ci sarà anche Beppe Grino insieme a tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle e tutti gli attivisti. Passate parola e ci vediamo lì domenica. Ciao a tutti!